Questo nuovo che devono fare, Comitato Consiglio Nazionale per la Sicurezza, è proprio un'altra roba all'italiana, abbiamo già un Comitato per la Sicurezza interna, abbiamo già un delegato alla sicurezza che è il Sottosegretario Montovano, che gode di ottima reputazione, e adesso vogliono fare anche quest'altra commissione che sarà sicuramente parlamentare, mescolata, piena di gente, uno specchio del Parlamento che non concluderà nulla, fatta solo per creare nuovi posti, nuovi bigettoni di presenza, il modello, l'idea sarebbe quella americana, l'assistente del Presidente, il National Security Advisor, è un'invenzione americana, del dopoguerra, il più illustre fu Henry Kissinger che poi in copia con Nixon fecero quella schifezza dell'uscita dal Vietnam, c'è un libro intitolato Niente pace, niente onore che racconta la porcheria che hanno fatto quelli, però comunque è un'istituzione importante ma che riferisce al Presidente, è un'istituzione, un comitato, un gruppo di persone con un...